Ero ad Agenda 2000. C'era anche Craig Mundy, uno dei papaveri della Microsoft. Mi sembra il vicepresidente del settore prodotti commerciali o qualcosa del genere. Non lo avevo mai incontrato di persona ed ecco che per caso lo incrocio in ascensore. Guardandolo, dissi, lei è della Microsoft, vero? Lui si voltò indietro e di rimando rispose, sì, e lei cosa fa? Mi sembra un po' presuntuoso. Ecco, il classico tipo in giacca e cravatta che guarda dall'alto al basso un hacker piantagrane. Allora gli lanciai un'occhiata fulminante e risposi, sono il tuo peggior incuro. Per gran parte della sua breve ma pittoresca storia, il settore informatico è stato dominato dal sistema operativo Windows. Ma sembra che la situazione stia per cambiare. Linux minaccia seriamente l'egemonia di Windows. Silicon Valley è sempre stata la mecca delle nuove tecnologie, il luogo per aprire nuove aziende e fare soldi a palate. Oggi è la prima linea di una battaglia rivoluzionaria a sostegno dell'idea più politicamente scorretta in assoluto, la libertà individuale. Giorno e notte una libera associazione di hacker e programmatori si scambia pezzi di codice da una parte all'altra del globo nel tentativo di costruire gli strumenti per liberare gli utenti di computer. Con informazioni aperte e libero scambio di tecnologie per raggiungere i suoi obiettivi, la rivoluzione iniziata negli anni 80 con il movimento Free Software e il progetto GNU, ora è più comunemente associata con Linux e il movimento Open Source. Oggi assistiamo al decollo di un settore, quello collegato a Linux. Credo che sia l'occasione giusta per chiedersi che cos'è Linux. Dunque molti di voi probabilmente sanno che nel mondo ci sono 12 milioni di utenti. Linux è un sistema operativo per personal computer sviluppato da centinaia di programmatori che collaborano su internet. Una sfida per Windows NT ed è apprezzata per la sua velocità. Ecco la mania del momento. Per spiegare cos'è Linux bisogna spiegare cos'è un sistema operativo. Proviamo a riflettere, non è previsto che l'utente lo veda perché in realtà nessuno usa un sistema operativo. Gli utenti usano i programmi installati nel computer e un sistema operativo ha il solo compito di far girare quei programmi. Perciò un sistema operativo non fa mai niente da solo. Aspetta semplicemente che i programmi chiedano determinate risorse o determinati file su disco o chiedano ad altri programmi di connetterli con il mondo esterno. Allora interviene il sistema operativo e cerca di facilitare il compito di chi scrive programmi. L'open source o software aperto permette alla gente di collaborare alla scrittura di un software senza gli ostacoli inerenti alla proprietà intellettuale, senza dover sottoscrivere contratti tutte le volte che si deve acquistare del software e senza richiedere l'intervento degli avvocati. In definitiva vogliamo solo che il software funzioni e che altri possano contribuire con aggiunte o modifiche e così via. In un certo senso sacrifichiamo alcuni dei diritti della proprietà intellettuale e lasciamo che tutti utilizzino il software. Perché ci potesse essere Linux? Prima c'è stato Richard Stallman e il movimento Free Software. Pensate a Richard Stallman come al grande filosofo e pensate invece a me come al tecnico. Richard Stallman è il padre fondatore del movimento Free Software. Grazie al suo impegno per costruire il sistema operativo GNU ha gettato le fondamente legali, filosofiche e tecnologiche di questo movimento. Senza i suoi contributi difficilmente Linux e l'open source si sarebbero evoluti fino alla loro forma attuale. Cominciai a lavorare nel laboratorio di intelligenza artificiale del Massachusetts Institute of Technology nel 1971. Entrai a far parte di una comunità di hacker molto attiva. A loro piaceva fare programmi e esplorare cosa potevano fare con i computer. Avevano sviluppato un sistema operativo completo, interamente scritto lì. Diventai uno di loro e continuai a migliorare il sistema operativo aggiungendo nuove funzioni. Era il mio lavoro e mi piaceva. A noi tutti piaceva. È per questo che lo facevamo. Chiamammo questo sistema incompatible time sharing che esemplifica lo spirito giocoso tipico di un hacker. Gli hacker sono persone dall'intelligenza vivace. Tutto iniziò ad andare male quando dall'esterno ci fecero pressione per usare le password. E nei nostri computer non c'erano password perché i primi hacker che avevano progettato il sistema si erano resi conto che attraverso le password gli amministratori potevano controllare tutti gli utenti. Non volevano costruire dispositivi, intendo chiave e lucchetto, con i quali gli amministratori avrebbero potuto controllarli. Perciò non lo fecero. Tralasciarono di inserirli. Secondo la nostra filosofia, chiunque si fosse seduto al computer avrebbe dovuto avere la possibilità di fare tutto ciò che voleva e qualcun'altro che aveva usato quel computer il giorno prima non doveva avere il modo di controllare ciò che facevi oggi. A me a un gruppetto di hacker non piacque quando all'MIT furono inserite le password in una delle macchine. Vogli tentare una specie di azione informatica sovversiva. Scoprì come decifrare le password e guardando il database delle password cifrate fu in grado di individuare ciò che ogni persona digitava per entrare nel sistema. Allora inviai messaggi dicendo, salve, so chi ha scelto la password PIPO o quello che era. Cosa ne dici di fare come me e digitare solo ENTER come password? È molto più breve e facile da scrivere. Implicitamente con questo messaggio dicevo loro che la sicurezza era solo una boffonata e inoltre li rendevo partecipi di quest'azione e alla fine un quinto di tutti gli utenti di quel computer fecero come me e per password usarono solo ENTER. In che modo quelle idee hanno portato all'attuale open source? Come è cominciato? Chi ha dato il via? In realtà tutto ha avuto inizio con l'avvento dei computer perché al tempo il software veniva scambiato liberamente. Credo sia stato solo a cavallo degli anni 70 e 80 che le persone iniziarono veramente a chiudere il proprio software e a dire no, non potrai mai accedere al codice sorgente, non potrai modificare questo software anche se ne hai bisogno per la tua applicazione. E la colpa di gran parte di questa situazione è attribuibile alla Microsoft, che è stata una dei veri pionieri del modello di software proprietario. A metà degli anni 70 un gruppo di hacker e obbisti della Silicon Valley fondò l'Hombreu Computer Club. Nella newsletter pubblicata dal club il 31 gennaio 1976, Bill Gates, della pena costituita Microsoft, scriveva una lettera aperta alla comunità in cui argomentava punto per punto il concetto relativamente nuovo di software proprietario. Fino ad allora, fra gli informatici, esisteva la consuetudine di scambiarsi liberamente il software senza preoccuparsi troppo del diritto di proprietà. Nella sua lettera aperta agli obbisti, Bill Gates scrive, secondo me l'elemento cruciale del mercato obbistico è la mancanza di corsi manuali e software di qualità. Senza software di qualità e un proprietario che sappia programmare, un computer è sprecato. Si scriverà mai software di qualità per il mercato obbistico? Gates continua. Le reazioni delle centinaia di persone che affermano di usare il Basic sono tutte positive, ma ci sono due aspetti sorprendenti. Uno, la maggior parte di questi utenti non ha mai acquistato il Basic. Due, stando alla montare delle royalty ricavate dalle vendite agli obbisti, il tempo dedicato all'altare Basic vale meno di due dollari l'ora. Come mai? Come probabilmente sapete, la maggior parte di voi ruba il software che usa. L'hardware si paga, ma il software va condiviso. A chi importa se la gente che ci ha lavorato non viene pagata? Vi cosa che non fate rubando il software è rivalervi sui ricercatori dell'MIT, se avete dei problemi. Loro non guadagnano dalla vendita di software. Una cosa che invece fate è impedire che venga scritto del buon software. Chi può permettersi di svolgere gratuitamente un lavoro di qualità professionale? Chi può dedicare tre anni uomo alla programmazione, al debug, alla documentazione di un progetto e poi distribuirlo gratis? Il fatto è che nessuno, eccetto noi, ha investito molto denaro nel software obbistico. Che dire di quelli che rivendono l'altare Basic? Non stanno lucrando su software per obbisti? Sono loro che discreditano gli obbisti e dovrebbero essere cacciati a pedate da qualsiasi raduno. Sarei lieto di ricevere lettere da chiunque voglia pagare il dovuto o abbia suggerimenti o commenti da fare. Bill Gates, socio al comandatario, Microsoft. Fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, Richard Stallman si occupava di ricerca e programmazione presso il Laboratorio di Intelligenza Artificiale dell'MIT. In quel periodo Richard ebbe numerose esperienze negative che lo irritarono sull'idea generale del software commerciale. Per esempio? Alcuni codici sui quali voleva lavorare e modificare erano inaccessibili e l'azienda che deteneva quei codici non gli consentì di modificarli, anche se l'azienda stessa avrebbe tratto vantaggio da quelle modifiche. E quindi mi trovai di fronte a un problema di tipo etico. Perché all'epoca, erano i primi anni 80, per avere un computer all'avanguardia dovevi procurarti un sistema operativo proprietario. Ma gli sviluppatori di quei sistemi non condividevano. Al contrario, cercavano di controllare gli utenti, di dominarli, di contenerli, dicendo per avere questo sistema dovete accettare di non condividerlo con nessun altro. Per me accettare quella promessa significava essere una persona cattiva, tradire o isolarmi dalla società, dalla comunità cooperante. Avevo già vissuto sulla mia pelle quello che era successo quando altre persone si erano comportate così con noi, quando avevano rifiutato di condividere con noi perché avevano firmato uno di questi contratti. L'intero laboratorio ne aveva risentito. Ci fu impedito di fare cose utili. Quindi non mi sarei mai comportato così. Sentivo che era sbagliato. Io non voglio vivere in questo modo. Da quelle esperienze maturò una profonda avversione al concetto di proprietà intellettuale sul software. Alla fine decise di reagire fondando un'organizzazione per il software libero. Cercai allora un'alternativa e mi resi conto che ero uno sviluppatore di sistemi operativi. Se avessi sviluppato un altro sistema operativo in quanto autore avrei incoraggiato tutti a condividerlo. Avrei detto che potevano prenderlo e usarlo e formare una nuova comunità. Non solo potevo continuare a usare i computer senza tradire altre persone, ma potevo passarlo anche a tutti gli altri. Tutti avrebbero avuto una via d'uscita da questa questione etica. Capì che quella era la mia missione nella vita. Cominciai a lavorare al progetto nel gennaio del 1984, cioè quando lasciai il mio lavoro all'MIT per iniziare a sviluppare il sistema operativo GNU. Ci tengo a spiegare che termine GNU è tipico del mondo degli hacker. È un acronimo ricorsivo e significa GNU is not Unix. GNU non è Unix. E quindi le iniziali GNU stanno per GNU. Questo acronimo significa che stavo sviluppando un sistema che era come il sistema operativo Unix, ma non era Unix. Era un sistema diverso che doveva essere scritto da zero, perché Unix era un sistema proprietario. Non avevamo il permesso di condividere Unix. Non potevamo usare Unix e quindi per una comunità era inservibile. Perciò dovemmo scriverne uno che lo sostituisse. Durante gli anni Ottanta, mentre Stolman lavorava al progetto GNU, gli ingegneri informatici dell'Università della California di Berkeley svilupparono un proprio sistema operativo libero, conosciuto col nome di Berkeley Unix o BSD. Si basava sul kernel Unix, il cui diritto di utilizzo era stato ottenuto dalla AT&T. Ma l'adattamento da parte di hacker e altri utenti non istituzionali andava rilento a causa di problemi legali con la AT&T e della frammentazione del codice sorgente. Unix era formato da un gran numero di programmi separati che comunicavano fra loro. Dovemmo sostituire questi programmi uno per uno. Allora cominciai a scrivere un programma sostitutivo per uno di questi, poi per un altro e un altro ancora. E poi altri iniziarono a unirsi a me, perché avevo pubblicato un annuncio in cui chiedevo aiuto per scrivere i programmi. Verso il 1991 li avevamo praticamente sostituiti tutti. Quali erano i programmi che avete dovuto... In sostanza, per avere un sistema completo c'è bisogno di un kernel, vale a dire il programma che attribuisce le risorse a tutti gli altri programmi. C'è bisogno di un compilatore che traduce un programma da un sorgente leggibile, che i programmatori possono capire in numeri incomprensibili che un computer può effettivamente far girare. C'è bisogno di altri programmi utili al compilatore, che lo assistono nel suo compito. C'è bisogno di un debugger, di un editor di testo, di un formatatore di testo, di programmi per la posta e molto altro. Ci sono centinaia di programmi in un sistema operativo simile a Unix. Io ho letto l'annuncio di Stolman. In realtà l'avevo già incontrato nel febbraio del 1987. Era venuto nella nostra azienda per tenere un corso di cinque giorni su Emax. Mentre DiGiorno spiegava nuovi modi di concepire Emax e modi per ampliarlo, migliorarlo e usare il suo codice sorgente nel bene o nel male, la sera lavorava lacremente al suo compilatore. E poiché non lo aveva ancora reso pubblico, stava piuttosto attento a mostrare il codice sorgente. Ma io ero molto impaziente e quando in giugno per la prima volta ne annunciò la pubblicazione, lo scaricai subito, lo studiai un po'. Lui mi diede alcuni consigli e quando gli rimandai il codice sorgente, rimase molto stupito per la velocità con cui ero riuscito a scalare la sua tecnologia. Quando lavoravamo su qualcosa a Stanford o all'università, quasi sempre lavoravamo con macchine della Digital Equipment o della Sun, soprattutto della Sun. Quando riuscivamo ad avere una macchina Sun, la prima cosa che facevamo era scaricare da Internet letteralmente per giorni e giorni il software libero GNU, compilarlo e installarlo su quella macchina. L'aspetto fondamentale di GNU è che è software libero. Free software, in inglese, va inteso come libero e non gratuito. Quindi dovete pensare alla libertà di parola, piuttosto che a una birra gratis. La libertà di cui parlo sono le libertà di fare cambiamenti, se volete, o chiedere a qualcun altro di farli per voi, o, se usate un software per lavoro, quella di ridistribuirne delle copie da condividere con altri. Fare miglioramenti e pubblicarli in modo che anche altri possano trovarne vantaggio. Queste sono le libertà che distinguono un software libero da uno non libero. Queste sono le libertà che permettono alle persone di formare una comunità. Se queste libertà vengono a mancare, si è divisi e dominati da qualcuno. Contribuì per la prima volta al software libero verso la fine del 1989 e l'inizio del 1990. Lavoravo come specializzando alla Stanford University su strumenti CAD. Uno dei pezzi di cui avevo bisogno era un tool chiamato generatore di parser. La Free Software Foundation, con Richard Stallman, aveva creato uno strumento straordinario chiamato Bison. Mi serviva che funzionasse con C++, ma Bison funzionava con C. Modificai Bison per crearne uno nuovo che chiamai Bison++. Mi diede un'incredibile sensazione di potere avere la possibilità di prendere del software disponibile e in breve tempo creare ciò di cui avevo bisogno, semplicemente modificandolo. Lo rimandai in internet e rimasi sorpreso dal numero di persone che lo scaricarono e cominciarono ad usarlo. Ricordo ad esempio cosa succedeva quando andavo ai colloqui di lavoro. Ho preso più volte in considerazione l'ipotesi di trovarmi un lavoro. Un giorno feci un colloquio e parlando con un responsabile dell'azienda chiesi che tu l'usavano e lui rispose, ehi, usiamo Bison++. Allora gli dissi, sono io l'autore di Bison++. Il software libero generalmente è protetto da copyright, ha un proprietario e una licenza d'uso. Non è di pubblico dominio. Se facciamo diventare il software di pubblico dominio, altri potrebbero apportarvi alcune modifiche e renderlo un pacchetto software proprietario. Ciò significa che gli utenti utilizzerebbero il nostro software ma non avrebbero la libertà di cooperare e condividere. Per impedire che ciò accada, ricorriamo al copyleft o permesso d'autore. L'idea del copyleft è quella del copyright al contrario. Ciò che diciamo è, questo software è protetto da copyright e noi, gli autori, vi diamo il permesso di ridistribuirne copie, di cambiarlo, di aggiungere dei miglioramenti. Ma quando lo ridistribuite dovete farlo a queste condizioni, né più né meno. In questo modo chiunque lo riceva da voi avrà anche lui, se lo desidera, la libertà di cooperare con altre persone. In questo modo, dove va il software, va anche la libertà e diventa un diritto imprescindibile per collaborare con altre persone e formare una comunità. E allora che cos'è la licenza? A che cosa serve? Il copyleft è un concetto generale e per usarlo si deve ricorrere a un esempio specifico. Quello che usiamo per la maggior parte dei pacchetti software GNU è la GNU General Public License, un documento in linguaggio giuridico che svolge questa funzione. Molti altri usano questa stessa licenza. Per esempio, Linus Torvalds usa questa licenza per Linux. Io uso la GNU General Public License, quella che è stata scritta da Richard Stolman, e secondo me è un contributo davvero svalorditivo. È una delle poche licenze software scritte dal punto di vista della comunità, anziché con lo scopo di proteggere un'azienda. O come nel caso della licenza MIT e BSD, di raggiungere gli obiettivi di un programma di sovvenzioni governative. In questo la GPL è veramente unica. Non è solo una licenza, è un'intera filosofia che ha giustificato la open source definition. Non nascondo che molto di ciò che faccio è venuto da Stolman. Un evento cruciale per la crescita di GNU, Linux e del movimento Free Software fu la creazione di aziende basate sulla filosofia del software libero. Punto di partenza per lo sviluppo della fase commerciale fu il laboratorio di ricerca elettronica della Stanford University, più noto come ERL. Fu là che trovarono ispirazione le prime attività commerciali collegate a GNU e Linux. L'ERL si trovava esattamente qui. Laggiù c'era l'entrata, proprio vicino all'Electrical Engineering e all'edificio McCullough. Una volta entrati si proseguiva lungo questo corridoio e il mio ufficio era più o meno qui. Ed esattamente dalla parte opposta rispetto all'ingresso c'era l'ufficio di Michael Teeman. Michael Teeman decise di fondare un'azienda, la Cygnus Software. L'idea era di vendere servizi e consulenza per il software libero GNU e Michael ha avuto molto successo con la Cygnus. Ho lavorato a lungo per elaborare un progetto che ci desse la possibilità di avere un ritorno economico e nel manifesto GNU originario, che è l'ultimo capitolo del manuale GNU e Emax, Stolman proponeva svariate possibilità per guadagnare. Fin dall'inizio del movimento Free Software ho avuto l'idea che ci fosse spazio per guadagnare. Uno dei vantaggi del software libero è che c'è un mercato libero per qualsiasi tipo di servizio o assistenza. Perciò, se per lavoro usi del software e vuoi un buon servizio di assistenza, hai la possibilità di scegliere fra un vasto numero di persone. Puoi scegliere fra varie aziende che operano nel settore dei servizi di assistenza. In linea generale devono fornirti un servizio di qualità, altrimenti ti rivolge a qualcun altro. Con il software proprietario, l'assistenza è un monopolio. C'è una sola azienda, di solito, che ha il codice sorgente e solo lei può garantirti assistenza. Di conseguenza ti trovi alla merced di un monopolio. È il caso, per esempio, della Microsoft. Perciò non c'è da stupirsi se l'assistenza è così scadente. Il software libero aveva vantaggi straordinari, ma i costi dell'assistenza con personale interno rendevano i manager molto, molto nervosi. In pratica pensai che se avessimo costruito un modello capace di garantire un'assistenza e una capacità di gestione da due a quattro volte maggiore rispetto a quanto poteva garantire un tecnico interno e avessimo potuto farlo a metà, se non a un quarto del costo, avremmo potuto affrontare la prova del mercato. Verso l'autunno di quell'anno avevamo già definito vari aspetti, di chi avevamo bisogno nel team tecnico, le condizioni di vendita, i punti chiave relativi al prezzo e nel novembre del 1989 diventammo ufficialmente una società commerciale. Una delle maggiori difficoltà che incontrammo nella creazione dell'azienda fu la scelta del nome. Disse a un amico che ci trovavamo in questa Unpass e lui mi rispose con una e-mail in cui elencava un bel po' di nomi che contenevano l'acronimo GNU. Cygnus ci sembrò quello meno sgradevole e meno osceno. Posso affermare senza ombra di dubbio che Cygnus fu la prima azienda specializzata in software libero. Cygnus forniva assistenza al free software rispondendo ai nostri bisogni essenziali. Avevamo del software fantastico, lo potevamo avere per niente, ma non era possibile avere assistenza. E così Cygnus guadagnava facendoci pagare questa assistenza. Il progetto GNU iniziò con la scrittura di un toolkit di sviluppo di base, un compilatore C, un debugger, un editor di testo e altri strumenti fondamentali. L'intenzione era quella di sviluppare un kernel sul quale far girare questi tool e che fosse al centro del sistema operativo. Verso il 1990 il toolkit era completo ed era ampiamente usato in molte varianti di Unix, ma un kernel libero non esisteva ancora. Il kernel fu una delle ultime cose sulla quale cominciamo a lavorare e non avevamo iniziato da molto quando arrivò Linus Torvalds. Linus o Linus? Qual è la pronuncia esatta? Quando parlo svedese è Linus, quando parlo finlandese è Linus e quando parlo inglese è Linus. In realtà non mi interessa come viene pronunciato il mio nome, ma Linux è sempre Linux. Sviluppò un kernel e riuscì a farlo funzionare più velocemente di quanto non riuscissimo a fare noi e funzionava molto bene in modo stabile. Questo kernel si chiama Linux. Linux. L'obiettivo iniziale era strettamente personale. Volevo essere in grado di gestire sul mio computer un ambiente simile a quello a cui mi ero abituato nel reparto informatico dell'università, ma non riuscivo a trovare niente di adeguato. Perciò, visto che lavoravo sui computer praticamente da sempre, decisi che ne avrei costruito uno mio. Inizialmente presi spunto dal SunOS, quello che usavo all'università in quel periodo. Quale università? L'Università di Helsinki, in Finlandia. Possiamo dire che l'infanzia di Linus va dal 1991 fino al 93 circa. Erano gli anni in cui aveva una qualità di livello alfa o beta. Era relativamente instabile, anche se era molto più stabile di molti tra quelli che oggi chiamiamo sistemi operativi di produzione. Linus utilizzò il metodo collaudato, tradizionale, di scrivere un programma che funziona ed è subito riuscito a farlo funzionare. In realtà lo ha fatto molto più in fretta di quanto io pensassi possibile. La definizione giusta è monolitico. In altri termini, il sistema operativo è un'unica entità, indivisibile. In un microkernel. Il kernel del sistema operativo è in definitiva solo un insieme di server che fanno diverse cose e hanno un protocollo comune per comunicare fra loro. Allora, come mai è andata in questo modo? Se il progetto GNU aveva così tanto vantaggio per arrivare alla soluzione, perché fu lui a, diciamo, risolvere il problema? In realtà noi cominciamo GNU Heard poco prima che lui cominciasse Linux. Si dà il caso, però, che scegliamo un disegno molto all'avanguardia in termini di potenza disponibile, ma risultò molto difficile individuarne i bug. Decidemmo di dividere il kernel, che tradizionalmente era sempre stato un programma unico, in una serie di programmi più piccoli, i quali avrebbero comunicato fra loro tramite messaggi asincroni. È facile, però, che in questo tipo di programmazione si formino molti bug, che spesso sono difficili da individuare, perché dipendono dal fatto che questo programma invii un messaggio prima o dopo che quest'altro programma abbia inviato un altro messaggio. Di conseguenza, ci mettemmo degli anni per far funzionare il sistema. Qual è la relazione fra Linux e il progetto GNU? Si tratta di una relazione su più livelli. Uno di questi è puramente filosofico, cioè il fatto di pensare che rendere accessibile il proprio codice sorgente sia una buona idea. Quando Linus sviluppò il suo kernel, non stava lavorando sul progetto GNU, lo fece in modo indipendente e lo rilasciò in modo indipendente. Noi non eravamo al corrente, ma alcune persone che lo sapevano decisero di vedere dove sarebbero arrivati usando quel kernel per creare un sistema completo. Cercarono in giro e tutto ciò di cui avevano bisogno era già disponibile. Che fortuna sfacciata, pensarono. Ma in realtà non si trattava di fortuna. Avevano trovato tutti i pezzi del sistema GNU al quale mancava solo il kernel. Quindi, quando misero tutto quanto insieme, non fecero che inserire Linux nel vuoto del sistema GNU. Ma questo loro non lo sapevano. Ci sono molti altri programmi, come Linux, scritti dalla Free Software Foundation e da altre persone. Esiste una simbiosi fra Linux e i programmi. Quindi, i programmi girano su Linux e contemporaneamente sfruttano Linux come una piattaforma, mentre Linux sfrutta questi programmi per il solo fatto di essere in grado di usarli. Che tipo di programmi? Il principale è senza dubbio il compilatore C GNU. Senza un compilatore C non sarebbe stato possibile realizzare Linux o la maggior parte dei programmi aperti disponibili. Linux usa la GPL e sono d'accordo con la filosofia che regge la GPL. La GPL in sé non è un documento molto gradevole. Probabilmente perché il legalese non è mai un linguaggio gradevole. Avevo esplorato le potenzialità di Linux per circa un anno, dalla fine del 92 all'inizio del 93, prima di stabilire che aveva tutto ciò di cui avevo bisogno per sostituire la stazione di lavoro Sun. Stavo cercando un modo per avere una stazione di lavoro Unix a casa. In quel periodo, in ufficio a Stanford usavamo la Sun Spark Station. Quelle macchine ci costavano 7.000 dollari. Ebbene, volevo disperatamente una macchina Unix a casa. Quando si è studenti universitari si ha come un pensiero fisso. Ehi, se solo potessi lavorare a casa sarei molto più produttivo, otterrei il dottorato prima perché finirei prima la tesi. Che sia vero? Giudicate voi. La maggioranza degli studenti finisce per occupare gran parte del tempo a cercare di diventare più produttiva. Se invece lavorassero alla tesi la finirebbero in un giorno. A volte ci vuole un po' di tempo. Ero deciso ad avere una macchina Unix a casa, perciò cercai in giro e riuscii ad usare Linux con un PC. Con circa 2.000 dollari misi insieme un sistema che era da una volta e mezzo a due volte più veloce di una Sun Spark Station, da 7.000 dollari. Era direi stupefacente. Avevo da una volta e mezzo a due volte la velocità a un terzo, forse a un quarto del costo. Ecco l'illuminazione. Sapevo che lì c'era una possibilità. Con Open Source e Linux c'era la possibilità di fare qualcosa di meglio della Sun. Inizialmente lo chiamai Linux solo per dargli un nome di lavoro. Ho semplicemente combinato il mio nome, Linus, con una X che doveva esserci. È come una legge non scritta, perché è Unix. In realtà all'inizio pensai che non potevo chiamarlo pubblicamente Linux, sarebbe stato troppo egocentrico, ma questo era prima che il mio ego si ingigantisse. Pensarono di prendere un bel po' di componenti e di sistemarli attorno a Linux. E così finirono per chiamare l'insieme un sistema Linux. Per qualche motivo la definizione prese piede. Il risultato è che ora questa variante del sistema GNU, il sistema operativo GNU-Linux è usata da 10 milioni di persone e la maggior parte di loro non lo sa neppure. Se le chiedessero di dire cosa pensa dell'abbinamento GNU-Linux, cioè se crede che sia giustificato o meno? Sì, credo che sia giustificato, ma lo è solo se si distribuisce GNU con Linux. Allo stesso modo penso che Red Hat Linux sia giusto, o SUSE Linux, o Debian Linux, perché in effetti se si fa la propria distribuzione di Linux si finisce per doverle dare un nome. Ma chiamare in generale Linux, il sistema GNU-Linux, credo che sia ridicolo. Rimasi coinvolto nel progetto nell'autunno 1993, quando ricevetti una coppia del primo CD-ROM della distribuzione commerciale di Linux, chiamata Yggdrasil e prodotta da Adam Richter. Ne ricevetti una coppia perché io stesso avevo iniziato a scrivere software libero fin dai primi anni Ottanta. In effetti fui uno dei primi a collaborare al progetto GNU ed ero assolutamente sbalordito, totalmente sbalordito, perché facevo l'ingegnere informatico da quasi 15 anni e secondo tutte le regole riguardo al controllo della complessità, all'avere un gruppo di lavoro ristretto e obiettivi fattibili, Linux avrebbe dovuto essere un disastro. Ma non lo era. Anzi, era qualcosa di fantastico. Ed ero deciso a scoprire come facevano a non rispettare quelle regole. Perché Linux potesse diffondersi al di fuori del mondo dei programmatori, c'era bisogno di un'applicazione che lo rendesse una tecnologia irrinunciabile. Quella soglia fu superata grazie allo sviluppo di un programma che rese possibile la creazione di siti web complessi, l'Apachi Web Server. L'applicazione che rese possibile la svolta di Linux fu senza dubbio l'Apachi Web Server. Se pensate alla storia di Linux, l'andamento della curva di adozione di Linux e di quella di Internet sono direttamente proporzionali. Il 1993, anno in cui fu ufficialmente avviato il progetto Apache Web Server, segna anche l'esplosione degli Internet Service Provider, quando Internet per la prima volta diventa un bene di consumo di massa e l'idea del commercio elettronico e della comunicazione elettronica di massa diventa una realtà. Credo che sia stata una delle prime applicazioni che fece esclamare, accidenti, se installo Linux ne avrò dei vantaggi tangibili. Voglio dire che Linux aveva molte applicazioni interessanti all'epoca, due o tre anni fa, quando questo strano fenomeno cominciò a prendere piede. Ma prima di Apache, credo, non c'era un incentivo o un motivo commerciale per usare Linux al posto di NT. Poi molte cose si aggiunsero ad Apache e lo migliorarono. Se decidevi di creare una server farm, era molto più redditizio in termini di denaro farlo usando Linux e Apache piuttosto che IIS e NT, anche se significava dover spendere un po' di più per la formazione del personale o per trovare persone che conoscessero già la tecnologia. Ma l'aspetto positivo era che quella conoscenza non era molto cara perché moltissimi studenti usavano Linux da tempo e lo conoscevano fin nei minimi particolari. Se si osservano le curve di adozione dei web server, Apache ha continuato a guadagnare quote di mercato fino ad arrivare alla quota attuale del 66%. Ha costantemente avuto la meglio sulla concorrenza a codice protetto perché è più affidabile, più flessibile, più ampliabile e fa ciò di cui i webmaster hanno bisogno. La combinazione Apache-Linux è stata adottata da numerose aziende commerciali. In buona sostanza, Apache fu l'applicazione che motivò i provider e le aziende di e-commerce a preferire Linux a Microsoft Windows. Probabilmente girava meglio su Linux e su FreeBSD per il semplice motivo che le comunità che usavano quei sistemi operativi erano anche le comunità che contribuivano alla crescita di Apache. Inoltre, quei sistemi operativi erano i più usati dai provider. E i provider preferivano a Apache perché consentiva loro di fare molte cose che invece alcuni server commerciali non permettevano, come avere la capacità di ospitare più di un sito web in una singola box. E chiaramente se sei un provider e hai 40.000 utenti e tutti vogliono avere un sito web personale, questo aspetto diventa cruciale. Uno dei fattori chiave nella crescita di Linux fu la nascita di aziende specializzate nella distribuzione e nell'assistenza per questo sistema operativo. Fra queste aziende, la Red Hat Software è la più famosa. La Red Hat nacque dall'iniziativa di Mark Ewing, che quando lavorava per l'IBM desiderava una migliore distribuzione di Linux. Cominciò un po' per gioco e si rese presto conto di dedicare più tempo alla sua distribuzione di Linux che non al suo nuovo progetto. Così iniziò una distribuzione propria. Ne parlò con Bobby Young, che in quel periodo gestiva un'azienda chiamata ACC Bookstore, un catalogo di vendite per corrispondenza di PC Unix. Bob avrebbe preferito vendere qualcosa di suo più che rivendere i prodotti di altre aziende ed era molto bravo nel commerciale. Mark sapeva di avere bisogno di un aiuto per il marketing, perché lui era più forte nelle cose tecniche e così si misero a lavorare insieme. Io ho iniziato a lavorare per la Red Hat nel maggio del 95, insieme a Eric Truon. Lui e io eravamo i dipendenti numero 4 e 5. Addirittura andammo a lavorare nell'appartamento dove prima abitava Mark Ewing. Ci installamo là, come una specie di ampliamento della Red Hat Software. Vi rimanemmo fino a novembre del 95, quando le tubature del nostro bagno si ruppero, allagando l'appartamento al piano di sotto, e la vicina si arrabbiò. I proprietari scoprirono che gestivamo un'attività nell'appartamento in cui avremmo dovuto abitare e decisero di sfrattarci. A quel punto avevamo una settimana per trovare il nostro primo ufficio. Cosa che facemmo? E traslocammo in fretta e furia. Ci rivolgemmo sempre nel 95 alle società di investimento in capitale di rischio, dicendo che il settore si stava muovendo e che era un'ottima opportunità per creare la nuova Sun dell'open source. Ma gli investitori analizzavano il progetto e dicevano, vendete sistemi, il software è libero, la cosa non è sicura. Non siamo sicuri di voler investire il nostro denaro. E per inciso abbiamo già finanziato altre società di sistemi, ma non hanno avuto successo. Abbiamo paura. Arrivai negli Stati Uniti circa tre anni fa. Visto che avevo trascorso sei o sette anni all'Università di Helsinki, avevo deciso che era tempo di vedere la vita vera e non solo quella universitaria. Soprattutto in quest'area del mondo dove si faceva parte del lavoro più interessante. Quindi decisi di attraversare l'oceano e di tentare. E il risultato è stato più che buono, direi. È un trasferimento temporaneo o a lungo termine? All'inizio pensavamo fosse temporaneo, ma sembra che stia diventando a lungo termine. Nostra figlia più piccola ha sia la cittadinanza americana che quella finlandese, perché è nata qui. E la più grande parla svedese e inglese. Posso dire che contribuì direttamente all'evento cruciale successivo. scrissi un saggio del titolo La Cattedrale e il Bazar, in cui esprimevo le mie impressioni, la mia analisi antropologica di ciò che aveva permesso il successo dell'open source. Allora usavamo principalmente la definizione free software. Nel testo esaminavo cosa aveva reso possibile il free software e perché eravamo in grado di produrre software di altissima qualità pur violando tutte le regole standard dell'ingegneria informatica. Nel saggio stabilivo un confronto fra due stili di sviluppo diversi e opposti. Uno era lo stile di sviluppo chiuso e tradizionale, che chiamai lo stile cattedrale. Questo stile è caratterizzato da rigide specificazioni degli obiettivi e da piccoli gruppi di progetto gestiti in modo autoritario e gerarchico e fra una release e l'altra trascorrono lunghi intervalli di tempo. Dall'altro lato c'era ciò che secondo me accade nel mondo Linux, cioè una struttura decentralizzata, basata su rapporti paritari, uno stile simile a un bazar, dove gli intervalli fra una release e l'altra sono brevi e vi è una costante sollecitazione da parte di persone formalmente al di fuori del progetto. Un intenso processo paritario di revisione. E la cosa incredibile era che più analizzavo questa situazione e più vedevo che rinunciare a tutti i presunti vantaggi del tradizionale sviluppo chiuso in favore del singolo vantaggio della revisione paritaria assolutamente indipendente sembrava essere la carta vincente e dare ottimi risultati. L'azienda Netscape è importante perché fu la prima azienda di grandi dimensioni a prendere parte all'open source. Avevamo Cygnus che forniva l'assistenza, ma non avevamo ancora una grande attività. Fondamentalmente la Netscape si unì all'open source per competere con la Microsoft, che distribuiva Internet Explorer, ma non condivideva il codice sorgente, non consentiva alle aziende di collaborare. Occupandomi del settore vendite, capii a fondo cosa spingeva la gente a comprare il nostro software e cosa serviva per renderlo competitivo rispetto ad altri prodotti di qualità presenti sul mercato. Ma il problema era, e ce ne accorgemmo col tempo, che il nostro software subiva la concorrenza di altre aziende, in particolare della Microsoft. Perciò il prezzo del nostro software dovette progressivamente scendere, perché gli altri distribuivano il loro gratuitamente o a costi irrisori. Il timore era che la Microsoft riuscisse a monopolizzare il mercato dei browser e che usasse questo monopolio per corrompere gli standard HTTP e HTML su cui si basa il web. Una volta trasformati questi standard in strumenti di chiusura, avrebbe potuto usare il suo controllo per spingere la Netscape fuori dal mercato dei server, settore dal quale traeva i maggiori profitti. La mia preoccupazione era che col tempo l'attività di Netscape avrebbe potuto essere minacciata dal fatto che non avevamo abbastanza personale per fare tutto quello che un'azienda deve fare per mantenere il suo software vitale sul mercato. Il rilascio di Netscape avvenne all'inizio del 1998 e in seguito mi venne detto, all'epoca non ne avevo idea, che fu una conseguenza diretta del fatto che le persone giuste avevano letto la Cattedrale e il Bazar. La Cattedrale e il Bazar, il saggio di Eric Raymond, influì in modo significativo sulla decisione della Netscape di rilasciare il codice sorgente. Per me fu una grande sorpresa. Non ero preparato all'idea che stavo cambiando il mondo, anche se accidentalmente. Ad ogni modo, non fu l'unico evento a influire su quella decisione, e neppure il più importante. Come ho detto, da tempo la Netscape stava progettando di rilasciare il codice sorgente per chi ha sentito parlare di quel saggio. Il congresso Linux, all'inizio del 1997, fu il primo luogo in cui quel saggio venne distribuito. Tim O'Reilly, della O'Reilly Associates, fu fra coloro che ne sentirono parlare, e pensò che fosse davvero affascinante. Così mi chiese di distribuirlo durante la sua prima Pearl Conference, che avrebbe avuto luogo nell'autunno dello stesso anno. A quanto pare, ciò che accadde, così mi fu detto, allora non avevo idea di ciò che stava succedendo, è che dei signori della Netscape sentirono parlare del documento alla Pearl Conference. Riferirono quest'idea alla Netscape, e così fecero scoccare la scintilla. Il mio documento creò un caso interno alla Netscape. Presentava il motivo commerciale per cui la Netscape avrebbe dovuto rilasciare il codice sorgente. Il titolo del documento era Codice sorgente Netscape come prodotto Netscape, uno strano titolo. In pratica, ciò che voleva dire era che bisognava pensare al codice sorgente non solo come a qualcosa che usiamo per creare i nostri prodotti, ma come a un prodotto in sé, qualcosa che può essere usato dai clienti e dalle altre persone. Esaminai allora i modelli aziendali possibili nel caso in cui avessimo rilasciato il codice sorgente dei nostri prodotti, quale licenza applicare, come vendere i prodotti in questo ambiente. Allora pensai alla concorrenza, parlo della Microsoft, come avrebbe reagito se avessimo rilasciato il codice sorgente? Avrebbe avuto modo di usare il nostro codice sorgente contro di noi? Mi avvalsi del saggio di Eric per illustrare come poteva funzionare un'attività di sviluppo diffusa, come un'azienda poteva sviluppare software non solo avvalendosi dei propri dipendenti, ma anche lavorando con la gente via internet. Ed è per questo che nel mio documento è inclusi un riferimento a quello di Eric. Quando la mia relazione venne distribuita, chi la lesse trovò ovviamente il riferimento al saggio di Eric e quindi lesse anche quello. Chi della Netscape fu coinvolto nel progetto? La persona che prese la decisione definitiva fu Jim Barsdale e questo a posteriori si rivelò importante. La nostra carta vincente e il successo che ci diede visibilità e credibilità con gli investitori non arrivò a seguito di un evangelismo dal basso o di un drappello di ingegneri, ma grazie a uno stratega delle alte sfere che vide la potenzialità di questo metodo e impose la sua visione a tutti gli altri. Non appena terminai la mia relazione ne diedi una copia a Mark Anderson che era cofondatore della Netscape e all'epoca era uno dei dirigenti dell'azienda. Mark ne diede una copia a molti altri dirigenti della Netscape, compreso Jim Barsdale. Non so esattamente quando Jim e gli altri dirigenti esecutivi presero la decisione definitiva, ma credo sia stato all'inizio di gennaio. Il 27 gennaio la Netscape annunciò che avrebbe rilasciato il codice sorgente e al momento del rilascio avrebbe distribuito gratuitamente anche Communicator. Quando la Netscape decise di rilasciare il codice sorgente, la gente finalmente aprì gli occhi e pensò «Ehi, forse c'è qualcosa di interessante in quest'idea di rilasciare il codice sorgente e fare attività di sviluppo con persone al di fuori dell'azienda». La decisione della Netscape richiamò molta attenzione sul concetto di free software, che divenne più noto come open source e focalizzò l'attenzione sul sistema operativo Linux, che in quel momento era uno degli esempi più rilevanti di software open source. Questo fu il nostro primo ufficio, Mountain View, California. Ci trasferimo qui all'inizio del 95, in un ufficio di 370 metri quadri. Traslocare e dare alla società dei locali propri fu un'incredibile dimostrazione di ottimismo da parte nostra. Ma ciò che rende speciale quest'ufficio è che il termine open source fu coniato proprio qui. «Se entrate nell'ufficio di un dirigente e dite free software, se siete fortunati, la risposta che otterrete sarà… software libero. Di sicuro è robetta scadente, senza valore. Se non siete fortunati, questo nome verrà associato con l'attacco massiccio che la Free Software Foundation muove contro i diritti della proprietà intellettuale, che, a prescindere da ciò che pensiate dei suoi effetti, è marketing di bassa lega, qualcosa che le aziende non vogliono sentire». Eric Raymond sapeva che c'era un problema nel nome Free Software. Per le aziende l'aggettivo free era associato a gratuito e non a libero, e pensavano che non ci avrebbero guadagnato o che non avrebbero potuto venderlo. Idea totalmente sbagliata. La nostra intenzione era far sapere che il software era aperto e il codice sorgente è disponibile. Due punti cruciali. Ci fu una riunione negli uffici di Mountain View. Io, Eric, Christine Peterson e diverse altre persone. Christine Peterson e John McDougall parteciparono via telefono. C'era Todd Anderson, che in seguito lavorò per Suse per qualche tempo. E c'era Sam Oakman, che ora dirige la Penguin Computers. All'epoca era un dipendente della VA. In quella riunione mettemmo a punto il concetto di open source. Chiamammo Linus per chiedere la sua opinione. Disse che gli interessava, gli piaceva e che finalmente potevamo sostituire Free Software. Questo fu l'inizio dell'open source. Come avete scelto le parole open source? Credo che l'idea sia partita da Christine Peterson. Volevamo trasmettere l'idea, anche in questo caso, che il codice sorgente era lì ed era aperto. Non c'era molto da scegliere. Visto che i primi tre intervistati hanno parlato a favore del movimento open source, credo di dover parlare del movimento Free Software. Il movimento open source si concentra sui vantaggi pratici che si possono ottenere da una comunità di utenti che collaborano scambiandosi e migliorando il software. E su questo aspetto sono interamente d'accordo con loro. Tuttavia aderisco al movimento Free Software, anziché all'open source, perché credo che in gioco ci sia qualcosa di più importante. Credo che la libertà di collaborare con gli altri, la libertà di avere una comunità, sia importante per la qualità della nostra vita, per avere una buona società in cui vivere. E questo per me è molto più importante, di avere un software potente e affidabile. Secondo me, alcuni degli aderenti al movimento Free Software sono un po' spaventati dalla commercializzazione. Come sempre, il ribelle è infastidito dal successo. Io credo che la commercializzazione sia molto importante. Vogliamo che tutti abbiano accesso a questo software. Ho lavorato in modo sistematico con Richard Stallman, che è il tizio dai capelli grigi del Free Software, e non mi sembra ci siano differenze filosofiche fra me, come autore della definizione di open source, e lui in quanto fondatore del Free Software come gruppo strutturato, se non per un aspetto. Per Richard, tutto il software dovrebbe essere libero. Per me, software libero e non libero possono coesistere. Questa è l'unica divergenza di idee fra noi. Fin dall'inizio, decidemmo che avevamo bisogno di una definizione, di una specie di metà licenza che definisse il termine open source. Elaboramo così il documento Open Source Definition, che si ispira alle Debian Free Software Guidelines, originariamente scritte da Bruce Perens. In realtà, io scrissi solo la bozza originaria del documento. Poi ne discussi per un mese con gli sviluppatori della Debian. La Debian è una distribuzione Linux, che lo adottarono come politica del progetto. Eric e io decidemmo di reetichettare quanto scritto per la Debian come open source definition, per dire, open source è il software che vi dà nove diritti illustrati dalla open source definition. Il primo diritto è la ridistribuzione libera, che non significa gratuita, ma implica il concetto di libertà. Siete liberi di ridistribuire il vostro software a qualcun altro e, in effetti, l'assenza di prezzo ha un effetto collaterale. Per la ridistribuzione potete chiedere o meno un corrispettivo in denaro. Il codice sorgente deve essere disponibile in modo che si possa mantenere un programma. Passando da un PC a un Mac, per esempio, deve essere possibile cambiare il software. I prodotti derivati devono essere consentiti. Se qualcuno migliora un programma, deve avere anche la possibilità di distribuirne il risultato. C'è una clausola sull'integrità del codice sorgente dell'autore che stabilisce una specie di codice d'onore dell'autore. Se si apporta un cambiamento, si dovrebbe cambiare il nome del programma o evidenziare chiaramente il cambiamento fatto, in modo che questo non venga attribuito all'autore. non c'è nessuna discriminazione verso singoli o gruppi. Un esempio chiaro. Non si può impedire di usare il software a un ospedale dove si praticano aborti o un attivista anti-abortista. Non c'è nessuna discriminazione verso i settori di applicazione. Vale a dire, il software deve essere utilizzabile in un'azienda così come in una scuola. La licenza deve essere distribuibile. In altri termini, devo poter dare la licenza a qualcuno e quella licenza sarà valida anche quando la persona a cui l'ho data la darà a una terza persona. La licenza non può essere specifica per un prodotto. In altri termini, se distribuisco il mio software su un sistema Red Hat, la licenza non può dire non è possibile distribuire questo prodotto su un sistema SUSE o Debian. La licenza non può contaminare altri software. Perciò, se distribuisco il mio software in un CD assieme a un altro programma, la licenza non può dire quel programma deve essere libero, altrimenti non puoi distribuire il mio software. La parte restante della Open Source Definition elenca una serie di licenze accettate. Quelle con cui cominciamo erano la GPL, che in realtà servì da modello per gran parte della Open Source Definition, e la licenza BSD, perché il software del sistema BSD esisteva prima di Linux. Credo che un altro momento cruciale fu quando i distributori di database si entusiasmarono, cosa che accadde tre mesi prima del previsto. Per essere esatti, accadde fra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Per fare cosa? Impegnarsi a un porting di Oracle e Sybase e degli altri maggiori distributori di database. E perché fu cruciale? Sapevamo che affinché l'intera faccenda dell'Open Source fosse credibile, e soprattutto affinché Linux fosse credibile, le aziende di software indipendenti dovevano impegnarsi a portare le loro applicazioni su queste piattaforme. E a dire il vero ero preoccupato. Sentivo che eravamo in una zona di vulnerabilità fra il momento in cui annunciamo la campagna Open Source e il momento in cui i distributori di database dimostrarono il loro entusiasmo. Quello era il momento in cui la Microsoft e le altre aziende di software a codice chiuso avrebbero potuto prendere misure ostili, in cui un'operazione di marketing ben condotta avrebbe potuto farci affondare. Ma quando i grandi distributori di database dimostrarono il loro entusiasmo, si aprì la strada anche per altri, e iniziò l'effetto valanga. A scadenza semestrale andavo dagli investitori per mostrare loro i nuovi dati che indicavano che sempre più persone passavano a Linux, che c'era sempre nuova gente, nuovi utenti. Mostravo loro il nostro parco clienti. Il nostro parco clienti diventava sempre più impressionante e cominciava ad includere aziende come Cisco, che stavano nascendo in quel periodo, o le aziende di commercio elettronico. Ma gli investitori continuavano a guardare l'elenco e a dire, non possiamo farlo. Poi Fortune dedicò la sua copertina a Linux. L'atteggiamento verso l'open source stava cambiando. A quel punto, gli investitori non poterono più far finta di niente. Ne avevano fin sopra i capelli di sentire parlare di Linux e di avermi fra i piedi con i miei dati e numeri quasi tutte le settimane. Così decisero che era giunto il momento di investire. Qualcosa stava cambiando. Quando annunciai l'open source al mondo via internet, svolsi gran parte del lavoro amministrativo di preparazione per avviare l'iniziativa open source e non più di sei mesi dopo, sui giornali, le parole open source apparivano ovunque, continuamente. O davvero sbalorditivo. Un anno più tardi, mi sembra, la Microsoft parlava di rilasciare alcuni codici sorgente e la stampa chiese a Steve Ballmer se avessero deciso di trasformare i loro sorgenti in open source e Steve Ballmer rispose, beh, open source significa molto di più che rilasciare il codice sorgente. Mi resi conto che aveva letto il mio saggio e lo aveva capito e ora ne stava parlando alla stampa. Ebbene, se sei uno qualsiasi che naviga in rete e che non lo fa per lavoro e scrivi una specie di manifesto che poi si diffonde in tutto il mondo e senti che ne parla persino il vicepresidente della Microsoft, penserai di essere completamente fatto, no? Ma è andata proprio così. I gruppi locali di utenti tendono ad essere molto sensibili alla creazione di reti sociali. soprattutto cercano il modo di aiutarsi a vicenda a risolvere determinati problemi. Agiscono come una rete di assistenza, per esempio per chi non ha i mezzi per pagarsi un'assistenza commerciale. Una delle loro iniziative è l'organizzazione a cadenza mensile, mi sembra, delle install fest. Vale a dire chi ha problemi ad installare Linux sulla propria macchina o ha altri problemi, magari è riuscito ad installare Linux ma vuole configurare la rete in modo particolare, può portare la macchina a questi meeting di utenti dove si possono incontrare persone disposte a dare assistenza e che probabilmente hanno già incontrato quegli stessi problemi. Le cose non vanno molto bene. Ho provato da solo ma ho avuto dei problemi e allora sono venuto a questa install fest dove ci sono un sacco di guru. Con un po' di fortuna, spero di farcela. Invece di inviare una mail o scrivere ai newsgroup via internet e aspettare diversi giorni per ricevere la risposta, a volte è più facile venire qui e trovare altre persone che forse sanno individuare il problema e darti una mano. Con un po' di fortuna hai la macchina installata nel giro di poche ore. Inizialmente volevo installarlo sul mio portatile più grande, così ho fatto una ricerca in internet e sono riuscito a trovare assistenza. Oggi invece sono qui perché sto cercando di installare Linux in questo piccoletto qui, che è un Toshiba libretto. Non è la cosa più semplice del mondo, perché è una macchina strana dal punto di vista hardware. Credo che il caso del Dipartimento di Giustizia abbia reso la gente consapevole del fatto che bisogna almeno considerare le alternative alla Microsoft e che forse la Microsoft non è il sogno americano dopo tutto. Da questo cambiamento di percezione si può chiaramente dedurre che la gente dava la Microsoft per scontata. Può darsi che acquisti ancora i prodotti Microsoft, ma perlomeno è più consapevole del problema. In realtà la Microsoft ha usato Linux come linea di difesa per affermare che non si era in presenza di un monopolio perché Linux avrebbe potuto scalzarla dalla sua posizione privilegiata in qualsiasi momento. È un'argomentazione ingegnosa, ma non rispondeva alle accuse mosse alla Microsoft, cioè di aver fatto il bello e il cattivo tempo in precedenza e di aver adottato numerose pratiche anticoncorrenziali. Una mossa intelligente, ma il giudice non l'ha bevuta. Noi della comunità Linux siamo piuttosto resti a far diventare la Microsoft il problema principale, ma nel dicembre del 98 Slashdot pubblicò un articolo in cui un certo Matt della Noodle sottolineava che un signore australiano era riuscito a ottenere un rimborso per la copia non utilizzata di Windows preinstallata nel suo computer. Perciò dichiarò... Dichiarò il 15 febbraio il Windows Refund Day. Incoraggiava la gente a andare dai costruttori di computer e restituire le copie inutilizzate di Windows come specificato nella licenza d'uso. È importante ricordare che la licenza d'uso stabilisce che si può avere un rimborso se il software non è stato utilizzato e che per legge o in base ai termini del contratto il costruttore ha tenuto a farlo. Scoprimo che quando si chiamavano questi costruttori in pratica rispondevano ragazzo smetti di scocciare e riattaccavano. Non volevamo rendere noto il nome della località in cui ci saremmo riuniti fino all'ultimo momento. Così dissi alle persone di incontrarsi in posti che potevamo controllare nelle varie cittadine dei dintorni. Io ero il maresciallo San José. Rick Moen e io ci occupiamo di San Francisco. E avevamo delle piantine da distribuire a coloro che si presentavano. Alla fine ci incontrammo in un ristorante appena fuori da Foster City. Eravamo fuori dalla giurisdizione della polizia di Foster City, perciò qualsiasi incidente fosse capitato sarebbe stato sotto la giurisdizione di San Matteo. E se ci avessero detto di toglierci dai piedi avremmo risposto, d'accordo, andiamo a Foster City. Un metodo alla Boe Luke di Hazard per evitare la polizia. In realtà marciamo sull'altro lato di questo edificio. Tutto attorno e fino al parcheggio, lassù. Ed è là che la Microsoft aveva preparato un ricevimento per noi con tanto di bevande e un cartello enorme con la scritta «La Microsoft dà il benvenuto alla comunità open source». Le macchine fotografiche immortalarono Eric Raymond e il portavoce della Microsoft. La Microsoft diceva che non si trattava di un suo problema quanto dei produttori di computer. Perciò dovevamo tornare dai produttori e tentare nuovamente di ottenere il rimborso da loro. Rispondemmo che lo avevamo già fatto e che ora volevamo che intervenisse la Microsoft. La società non fece che ripetere all'infinito «dovete andare dai produttori e ottenere il rimborso da loro». C'erano circa 150 persone. Probabilmente la metà aveva dei cartelli o cose simili. Finimmo esattamente in questo cortile. In pratica all'inizio ci radunammo fuori. Diverse persone mandarono dentro dei gruppi. Quelli della campagna FreeBSD mandarono un paio di persone. E con noi c'era Eric Raymond. Alla fine Chris tentò di salire, ma avevano bloccato gli ascensori. Dov'erano gli uffici? Gli uffici sono esattamente qui sopra, al nono piano. Ottenemmo una buona pubblicità dalla stampa. Credo che a seguito della manifestazione la Toshiba permise l'acquisto di portatili senza sistema operativo preinstallato. È una piccola vittoria però. Adesso aziende come IBM e molti altri costruttori di computer consentono l'acquisto di macchine senza Windows preinstallato. Quando ero bambino, a scuola gli insegnanti cercavano di educarci a condividere. Dicevano se porti dei dolci non puoi mangiarli tutti da solo, devi dividerli con gli altri bambini. Adesso le autorità dicono che gli insegnanti dovrebbero educare i bambini a rispettare le licenze. Se porti del software a scuola, oh no, non condividerlo. Condividere significa che sei un pirata e che sarai messo in prigione. Non è così che la società dovrebbe funzionare. C'è bisogno di buona volontà, di disponibilità a aiutare gli altri, perlomeno quando non è troppo difficile. Perché questo è il fondamento della società. È il fondamento che distingue la società da una giungla spietata. Allora, cosa pensa di chi afferma che la pirateria sfrenata eliminerà lo stimolo del profitto e il lavoro creativo non... Si sbagliano su entrambi i fronti. Tanto per cominciare, c'è chi guadagna sviluppando software. E poi comunque, la libertà di avere una comunità è più importante. Guardando in modo superficiale all'open source e al free software e al concetto bisogna condividere per il bene degli altri, non le pare che ci sia una connotazione comunista? È un'assurdità. Vado su tutte le furie quando sento queste cose. Nel 1989 comunismo sarebbe stato un complimento. Allora il termine più ricorrente era follia. Io volevo che usassero capitalismo. Il comunismo è un'ideologia che spinge la gente a condividere. Se non condividi, vieni arrestato o ucciso. Nel 1990 ricevemmo la visita del direttore di un istituto dell'Università di Mosca. A dire il vero, io lo vidi solo a Helsinki due anni fa. Ma ad ogni modo, venne qui e Richard Stolman gli consigliò di visitare la Cygnos perché era interessato a capire in che modo il modello del free software avrebbe potuto stimolare l'innovazione imprenditoriale in Russia. Eravamo stati molto riservati sul nostro programma di sviluppo perché non eravamo granché sicuri che avrebbe funzionato e non volevamo fare la figura dei cretini nel caso si fosse rivelato a un fallimento. Ma fui molto franco con lui e più cose gli dicevo e più scuoteva la testa. Alla fine chiesi, qualcosa non va? Lui rispose, assomiglia troppo al comunismo per avere successo in Russia. Vai in un gulag e finisci in una fossa comune con una pallottola in testa. Open source non significa comunismo perché non obbliga nessuno. Non è stato Karl Marx a inventare il motto aiuta il tuo vicino. Avere beni comuni non vuol dire comunismo. I beni comuni esistevano molto prima del comunismo come filosofia di governo. Ci sono molti beni comuni nella vita di tutti i giorni. Per esempio usiamo l'autostrada, qualcosa che è mantenuto per il nostro bene comune. In realtà etichettare il nostro modello aziendale significa non capire a fondo l'aspetto più importante. L'etichetta non è importante. Cosa importa se è comunista o capitalista? Il punto fondamentale è quanto valore puoi dare, quanto è scalabile l'azienda, che tipo di problemi, quale livello di innovazione puoi sostenere e se poi vuoi comunque dare un'etichetta è affar tuo. Molta gente definì Linux Word come il parte in cui Linux uscì allo scoperto. Linus Torvalds ci scherzò sopra dicendo, come? Linux è gay? Altri dissero che era il nostro ballo delle debuttanti. Fu la prima volta che i fan di Linux, gli hacker più intransigenti, si trovarono insieme a manager e amministratori. Alle ore 15 del 10 agosto 1999, Linus Torvalds fece il suo discorso a Linux Word. Una folla di 6.000 persone cominciò a mettersi in fila da mezzogiorno. Signore e signori, diamo il benvenuto a Larry Augustin, presidente della Linux Word Conference e amministratore delegato della VA Linux Systems. Questi signori devono applaudire, li pago io. Grazie per essere intervenuti. Ha tutta l'aria di essere una grande manifestazione. Se me lo permettete, vorrei tentare di evitare il riverbero delle luci e credo che ci siano molte persone, anche se questa è la seconda manifestazione. Penso che siano ancora molte le persone che non riescono ad afferrare cos'è che rende Linux così stimolante. C'è uno show fantastico qui accanto, c'è una mostra enorme e molto altro, ma i veri artefici sono le persone qui dentro, non quelle aziende. Passo la parola a... lo so, lo conoscete tutti, quindi non c'è bisogno che lo presenti. Signore e signori, ecco Linus Torvalds. Va bene, calma. Calma. Non ho intenzione di fare uno dei miei soliti discorsi, perché li trovo noiosi e probabilmente anche la maggior parte dei presenti li troverebbe noiosi, visto che li ha sentiti decine di volte. Dopo gli aggiornamenti di tipo tecnico, vedremo se c'è modo di organizzare una sessione di domande e risposte con circa 5.000 persone o quanti sono i presenti, ma questa proposta potrebbe anche non funzionare, perché uno dei 5.000 presenti è davvero rumoroso. Ciò che voglio fare e che faccio sempre durante un discorso è esprimere la mia riconoscenza. Desidero ricordare che non ero da solo, ovviamente, a lavorare su Linux. Red Hat, più 228%, le IPO che tutti stavamo aspettando. L'azienda, ovviamente, è dietro al Linux Operating Software. R-H-A-T Lo so, lo so. Per tutto il giorno sono arrivati i commenti sul prezzo delle azioni. Durante la mattina, vedi, ha oscillato da 41 a 42, poi 47, 53 e 51. Ogni macchina, per quanto ne so, ha il piano espositivo e collegata ai conti di e-commerce o ai conti dei broker. Conoscono il prezzo della Red Hat. Non riesco a crederci. Ho appena sentito 53. Oh, ragazzi, non ne ho comprata neanche una. Non ne hai comperate? No, no. Avrei dovuto comperarle. No, no. È incredibile. Bene. Il successo della Red Hat legittima Linux e quindi sarà molto più semplice per noi andare sul mercato. Mi sembra che i pareri siano discordanti. Cioè, ci sono molti utenti che sono piuttosto fanatici e sono un po' risentiti perché hanno lavorato davvero sodo senza ricevere una giusta ricompensa. Alcuni vengono attaccati nelle mailing list o su Slashdot. Si legge, quel tipo è davvero folle perché non ha fatto in modo di procurarsi delle azioni della Red Hat oppure non è riuscito a ottenere un lavoro da quell'altra azienda. Ma la cosa più sconvolgente è che la maggior parte dei più fanatici di queste cose se ne frega. La gente in prima linea è quella che scrive del codice perché ne ha bisogno. Vorrei invitare qui Richard Stolman, il fondatore della Free Software Association e Tim Ney, l'amministratore delegato. Ah, eccolo! Richard, alla Linux Conference di Parigi l'ho vista suonare il flauto, ma non avevo la traccia audio. Mi farebbe la cortesia di chiedere loro di aggiungere l'audio allo stream video la prossima volta? Ah, mi dispiace, non dipende da me. Sfortunatamente quelle cose si possono fare solo con software non libero. Bene, ti consegniamo il premio e prima che tu cominci a parlare chiedo a Tim e a te di reggere questo piccolo simbolo dei contributi versati alla Free Software Association. Sono accadute cose davvero buffe, ma nessuno è al pari di questa. Assegnare il premio Linus Torvalds alla Free Software Foundation è un po' come dare il premio Han Solo alla flotta ribelle. Probabilmente alcuni di voi non si rendono conto di quanto questa analogia sia vera, ma lasciatemi dire come siamo arrivati a questo punto. Quindici anni fa, per usare un computer, bisognava ricorrere a software proprietari, software che dividono e sottomettono gli utenti. e alla maggior parte degli utenti non piaceva, ma non avevano alternative. Alcuni di noi erano decisi a creare un'alternativa e ci siamo detti svilupperemo un sistema operativo libero, un sistema operativo con software libero che darà agli utenti la possibilità di essere liberi mentre usano i loro computer. Molti dissero è una buona idea, ma è così complicato, non ce la faremo mai, quindi non vogliamo partecipare, non crediamo che ci riuscirete mai. Per fortuna non tutti la pensarono così ed evidentemente sapevamo che alla fine saremmo riusciti a creare il kernel. Ma come sapete qualcuno realizza un kernel migliore prima di noi. In passato avevamo una strategia globale per focalizzare l'attenzione della gente sull'importanza della libertà, sulla libertà che possono avere o meno quando usano un computer. E allora cosa possiamo fare a questo proposito? Per quanto mi riguarda l'unico modo attuabile per cercare di cambiare le cose e rendere quella strategia nuovamente efficace è diffondere la notizia che il sistema operativo che usate è un sistema GNU. Un po' modificato, ovviamente. E quando gli altri lo verranno a sapere vorranno conoscere i motivi che ci hanno portato a sviluppare questo sistema e penseranno a questi temi e qualcuno si troverà d'accordo con noi. Perciò vi chiedo per piacere ditelo a tutti questo è un sistema GNU. È una combinazione fra GNU e Linux perciò possiamo chiamarlo GNU Linux. Larry, 8 o 9 anni fa quando ero a Stanford per il dottorato immaginava di arrivare a questa posizione? No, non ne avevo idea veramente. Cosa ha pensato quando ho ottenuto il dottorato? È una buona domanda. Non avevo le idee chiare. Ecco, ora siamo a questa manifestazione grandiosa. C'è gente che va pazza per Linux. Ieri sera c'erano 6200 persone stipate in una stanza per sentire Linux parlare. Qui ci sono dei grandissimi distributori e tutto questo per una manifestazione e non pensavo lontanamente che potesse succedere. È solo un piccolo sistema operativo del quale siamo soddisfatti e che stava a cuore ad alcune persone. Pensavo che avrei avuto una tranquilla attività di consulenza e invece improvvisamente mi trovo in questa enorme manifestazione. È a dir poco incredibile. L'anno scorso guardavo e dicevo sarà una grande cosa. Ora la gente dice l'anno scorso è stato un grande evento lo sarà anche quest'anno? E tu gli ricordi ma l'anno scorso era solo 6 mesi fa e allora loro fanno oh, è il momento di Linux. Nel processo di preparazione per la IPO arrivamo a San Diego il martedì notte. Trascorremo il mercoledì mattina con gli investitori a San Diego. Poi volamo a San Francisco dove il mercoledì pomeriggio incontrammo le società finanziarie. Il giovedì mattina della IPO era il giorno in cui le nostre azioni sarebbero state contrattate pubblicamente quindi fu piacevole dover terminare il nostro giro a San Francisco perché dovevamo andare al banco delle contrattazioni del Credit Suisse per guardare l'offerta pubblica e poiché San Francisco è vicino alla nostra azienda e alle nostre famiglie potemmo invitare familiari e amici a unirsi a noi per il primo giorno di vendita. Invitai mia moglie e chiedemmo a Linus e Tove e a molti amici e ai dipendenti dell'azienda di unirsi a noi. Linus e Tove avevano due bambini piccoli e io avevo una bambina Andrea e dovunque andavamo portavamo anche i nostri figli. così entrammo nella sala delle contrattazioni del Credit Suisse con tutti gli operatori di borsa e questi bimbetti di tre anni che correvano dappertutto e giocavano a rincorrersi. Linus e io entrammo e ci dirigemmo alla sala delle contrattazioni. Tutti erano molto eccitati e continuavamo a domandare come va? Va tutto bene? E loro rispondevano siamo davvero entusiasti le cose stanno andando bene ma non vogliamo dire niente non vogliamo portare Iella. Entrammo e c'era un televisore enorme sintonizzato sulla CNBC eravamo sbalorditi il tema del giorno era Linux. C'è un IPO che parte oggi e quando dico partire significa veramente partire le valutazioni che mi hanno fornito sono strabilianti occhio alla VA Linux Systems parte alle 12.40 il simbolo è LNUX è un provider su larga scala di server e stazioni di lavoro appositamente progettate per il sistema operativo Linux inizialmente l'IPO oscillava fra 11 e 13 dollari poi fra 21 e 23 poi fra 28 e 30 ed è stata fissata a 30 e se le voci non confermate sono vere non crederete ai vostri occhi quando l'offerta si aprirà alle 12.40 Mi sono girato verso Linux e ho detto avresti mai immaginato che un giorno saresti entrato qui e Linux sarebbe stato l'argomento principale della CNBC e Linux nel suo stile oh assolutamente sì entriamo e ci mostrano gli ordini di acquisto e vendita che stanno arrivando vediamo numeri come 320 340 dollari per un'azione e sono quasi sotto shock perché era circa 10 volte il prezzo dell'offerta incredibile ricordo che Linus mi mise una mano sulla spalla come per dire ok rilassati era davvero eccitante assistere a quell'evento era assolutamente stupefacente eravamo sbalorditi fortunatamente venendo da San Francisco riuscimmo a tornare agli uffici della VA e a vedere tutti quanti quando arrivammo tutti erano naturalmente molto eccitati la IPO era andata tremendamente bene buttammo in piedi una piccola festa e mentre festeggiavamo c'era ancora gente che tentava di lavorare passando per gli uffici ricordo ci gridavano silenzio siamo al telefono stiamo lavorando una delle cose che feci fu ripetere la road show presentation ai dipendenti in modo che sapessero cosa avevamo detto agli investitori e capissero esattamente cosa avevamo creato per loro anche oggi l'evento del giorno è la crescita del 766% della VA e Linux da 235 a 265 dollari in assoluto la IPO con la migliore performance ma proprio ora Sikamore Networks quotata a 38 dollari è salita a 270 ha battuto il record cosa si prova a vedere nascere dal proprio lavoro una potenziale ricchezza di miliardi di dollari senza necessariamente averli investiti ecco se non avessi reso disponibile Linux non avrei fatto i soldi in quel modo da qualunque punto la guardi è una situazione vincente il fatto che ci siano molte aziende commerciali significa che c'erano già molti utenti di Linux che lavoravano su Linux nell'ombra e ora sono pagati per fare ciò che volevano fare questo mi fa piacere nel senso che volevo che lavorassero su Linux l'intero progetto GNU è in realtà un solo grande hack una grande azione di intelligenza creativa e sovversiva intesa a cambiare la società in meglio perché sono interessato solo a cambiarle in meglio ma in modo intelligente noi siamo gli GNU Stolman e questa è la canzone del software libero join us now and share the software you'll be free hackers you'll be free hackers may get piles of money but it is true hackers that is true Grazie a tutti 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 Grazie a tutti